Allora, come potete vedere il trucco occhi e le sopracciglia le ho precedentemente fatte perché non ho trovato nessuna palettina o ombretto mono oppure matite per sopracciglia e gel per sopracciglia e quindi le ho fatte con i miei soliti prodottini Allora, partiamo subito dalla base Come fondotinta ho deciso di prendere il Fresh & Fit questo fondotinta che sicuramente avete già visto e ho deciso di prendere la colorazione numero 10 ed era l'unico colore che non era stato ancora provato Sono riuscita a prendere anche la spugnetta che ha questa forma clessidra molto accentuata e questa parte più piatta Ne ho messo un pochino nel dolce della mano Prima ho applicato il mio solito primer della Too Faced Andiamo ad utilizzare questa parte piatta Il colore è giusto Ha un effetto glow quindi è totalmente diverso dai fondotinta che io di solito applico ed è stratificabile Ripasso un secondo qui nella zona dove ho più imperfezioni per vedere se la coprenza aumenta Sì, diciamo che la coprenza è aumentata e che l'effetto è rimasto sempre quello nel senso del glow, dell'illuminato però un pochino è diventato più coprente Applichiamo il correttore questo che è il Camouflage Full Coverage Concealer sempre nella colorazione 10 Per ora lo applichiamo solo qui poi vediamo se applicarlo anche nelle imperfezioni Vado ad utilizzare sempre la Blender La coprenza c'è e quindi direi di andarlo ad utilizzare su qualche imperfezione Sì, 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 sì mi piace, mi piace, mi piace Ora passiamo alla cipria Ho preso l'All About Matte che è questa cipria compatta bianca per non andare ad alterare il colore diciamo del fondotinta che abbiamo prima applicato e poi ho voluto prendere questa chiacchieratissima Banana Powder che è lei che a differenza dell'altra è leggermente colorata che vira sul colore del giallo appunto Banana Powder l'andiamo ad applicare per fissare il correttore non utilizzerò sicuramente questa qui perché è bagnata utilizzerò la mia solita Beauty Blender ne andiamo un pochino a prelevare in questa maniera e poi la andiamo a pressare sotto nella zona delle occhiaie ovviamente andandola a pressare in questa maniera il giallo si evidenzia ma noi poi dopo l'andiamo a spolverare con il pennellone grande aspettiamo qualche minuto e poi l'andiamo a repulire a spolverare utilizzando su tutto il viso l'altra cipria ok prendo il mio solito pennello e andiamo ad applicare l'altra cipria su tutto il viso ho fissato il tutto con le due ciprie come potete vedere l'effetto giallo che avevo sotto gli occhi è scomparso grazie alla spolverata con l'altro pennello per ora mi sembra tutto fissato a dovere finisco un secondo di applicare l'ombretto e poi passiamo al mascara perfetto ora andiamo ad applicare il mascara e ho preso il Lush Princess che è questo mascara che promette un effetto di ciglia finte lo andiamo ad applicare è veramente stupendo voi non so se potete vedere l'incurvatura che ha dato alle mie ciglia questo vuol dire avere un prodotto qualità prezzo sensazionale cioè è veramente un mascara stupendo non mi sarei mai aspettata questo risultato incidenti di percorso lo vado ad applicare nell'altro occhio ovviamente vi ricordo sempre poco prodotto alla volta stupendo realizzo un secondo il contouring perché non ho trovato nessuna terra che mi potesse piacere opaca ne avevo vista una ma purtroppo aveva i glitter e secondo me il contouring con il glitter è assolutamente no e quindi realizzo il mio contouring e torno subito come blush non ho preso niente ma utilizziamo una vecchia edizione limitata erano questi blush con effetto ombra non ho preso niente perché quelli che ho trovato nello stand erano tutti pieni zeppi di glitter e alcuni avevano anche un effetto metallizzato e sinceramente non mi piaceva come effetto per un blush un pochino di prodotto lo scrolliamo via e lo applichiamo oddio era super pigmentatissimo non me lo ricordavo bene Heidi non mi ricordavo assolutissimamente che avesse questo effetto super pigmentato infatti lo andiamo un po' a levare a togliere nota per chi avesse questo blush il blush è super pigmentato quindi poco alla volta la situazione mi sembra migliorata applichiamo l'illuminante e ho deciso di prendere questo illuminante in stick con questo packaging molto olografico molto unicorno allora è in stick e noi si chiama prismatic hololighter stick andiamo ad applicare beh lo andiamo a prelevare con il dito io vedo molto poco e quindi immagino che voi dalla fotocamera non vedete niente è veramente ma veramente blandissimo questo questo illuminante ed ha questo effetto che tende al violaceo un po' come un altro prodottino non lo applico direttamente dallo stick perché ho paura di togliere i strati sottostanti e quindi preferisco fare così a chi piace l'effetto molto naturale dell'illuminante e non l'effetto diciamo power questo va benissimo quindi secondo me non può rendere di più di questo effetto ci accontentiamo ora mancano le labbra vado ad applicare un rossetto e ci vediamo dopo ok il trucco è terminato spero che vi piaccia questo è il risultato finale di tutti i prodottini della essence che abbiamo provato piccole prime impressioni allora il fondotinta mi è piaciuto non ha sicuramente la stessa coprenza dei fondotinta che di solito sono abituata ad utilizzare ed è molto più luminoso il correttore anche mi è piaciuto a me sinceramente copre le occhiaie le mie occhiaie sono molto leggere quindi a tutte le persone che hanno un'occhiaia più importante più evidente consiglio prima di applicare sempre un altro correttore aranciato che è presente sempre nella collezione della essence ma purtroppo non ho trovato la cipria la banana powder è secondo me ottima per fissare il correttore che applichiamo sulle occhiaie altra cipria che mi sento per ora di promuovere a primo impatto è la cipria quella bianca che non va ad alterare il colore del fondotinta che abbiamo prima applicato il blush già ce l'avevo però mi sento di promuoverlo e vi ricordo di applicarne poco alla volta il mascara sicuramente non è l'unico e l'ultimo mascara che acquisterò dalla essence perché ne ho sentito parlare molto bene anche degli altri ma per ora volevo provare questo qua una volta terminato poi magari proverò anche gli altri ed ha questo effetto molto allungato proprio di ciglia finte come promette dalle scrittine esterne l'unico prodotto invece che sono rimasta un pochino più scettica un pochino per i gusti personali un po' per l'applicatore è l'illuminante che viso esternamente è carino se l'andiamo ad applicare sì i riflessi violacei si vedono però essendo un un illuminante in crema con questo applicatore non può essere applicato direttamente dallo stick perché se no va a sciogliere i prodotti che abbiamo applicato prima ok i prodottini della essence sono finiti i prodottini invece che ho utilizzato fuori dalla camera sono la palette dell'iMood della Mulac per le sopracciglia il solito universa deep brown della Mulac mentre per contouring top della NYX professional makeup e per rossetto la mini size della Kat Von D io spero che il video vi sia piaciuto che questa tipologia di video vi piaccia fatemelo sapere con un like o con un commento noi ci vediamo al prossimo video ciao